ciao ragazze ciao ragazzi allora oggi vi mostrerò in un brevissimo video come riprendere una maglia dal rovescio se l'avete seguito se vi ricordate vi ho fatto vedere come riprendere una maglia dal dritto e niente e anche questo è molto semplice diciamo sul dritto è ancora più semplice sul rovescio si deve stare un pochino più attenti ma vedrete che davvero semplice allora prima di tutto sicuramente vi si presenterà una cosa del genere quindi la maglia qui sfilata e tutti questi giri tutte queste diciamo questi fili flottanti quindi che cosa facciamo prima di tutto avvicino la telecamera prima di tutto la mia maglia la metterò davanti al filo entro l'uncinetto chiaramente più o meno della stessa misura del ferro con cui state lavorando prendete il filo e tirate adesso di nuovo filo davanti entro nella maglia prendo il filo e tiro diciamo che non è non sono dei passaggi veloci come è stato per il dritto dobbiamo sempre riposizionarci però vedrete che il lavoro verrà perfetto allora rientriamo e prendiamo il filo filo davanti questo è l'ultimo un attimo che ho lavorato a doppio filo quindi ok perfetto riposizioniamo la nostra maglia mettiamola dal verso giusto e come potete vedere il lavoro è identico a tutto il resto anche sul davanti e potete continuare a lavorare tranquillamente allora io spero che vi sia stato utile come quello dell'altra volta perché sono cose che possono capitare a chiunque e quindi bisogna essere pronti a non entrare nel panico e sistemare il lavoro se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così non vi perderete nessun altro video ciao buona giornata